Entriamo subito nel merito Spadafora. Oggi c'è un'intervista sul Corriere della Sera di Fontana che dice che i 5 Stelle ci coprono di insulti, forse non vogliono governare con noi il Paese. Abbiamo fatto tanto e nel merito, nei suoi confronti, quando il collega Marco Cremonesi chiede Vincenzo Spadafora appena detto che per le famiglie lei non ha fatto nulla, La risposta di Fontana è forse Spadafora dormiva. Dormiva? Non si è accorto di nulla? No, avremmo bisogno di qualche ora di sonno in più perché è un periodo di grande fatica, però invece eravamo sveglissimi. Intanto io non capisco perché parli di insulti. È una dialettica normale tra forze politiche che devono dimostrare ai cittadini se riescono a fare concretamente quello che hanno promesso. È vero, Fontana cita per esempio nel Corriere della Sera l'aumento del fondo per le famiglie che arriva fino a 100 milioni. Il tema è di quei soldi fino adesso che cosa è stato fatto, quanto è stato speso, cioè quanto è diventata poi azione concreta che incide sulla qualità della vita delle famiglie. Quindi anche noi avevamo ottenuto in legge di stabilità che il fondo per le politiche giovanili da 7 milioni passasse quasi a 40 milioni e grazie a questo sabato scorso, mentre a Verona andava in onda la fiera dell'ipocrisia e del passato, noi abbiamo proposto un bando che si chiama Fermenti, che finanzia ed è per i giovani fino a 450 mila euro, apriremo almeno 70 progetti in giro per l'Italia. Questo è solo un esempio per dirle avere dei soldi in più, ma poi non spenderli quasi più dai responsabili rispetto al fatto di dire che ci sono e che ci sono tante altre misure. Credo che siamo arrivati a un punto in cui noi non possiamo dopo nove mesi ancora continuare a fare slogan. Le persone ci hanno votato, questo vale anche per il Movimento 5 Stelle e vogliono misurare la nostra capacità di governare, la nostra capacità di mettere in atto delle cose. Quello che io rimprovero, quello su quale discuto con Fontana è che vogliamo ancora vedere, stiamo ancora aspettando, i benefici concreti dell'azione del suo ministero. Senta, lei quando è stato qui a novembre mi disse adesso noi dobbiamo fare le nostre misure, diciamo quelle principali, per le quali naturalmente ci siamo proposti come Movimento e quindi il reddito di cittadinanza e poi dopo insomma inizieremo a entrare nel merito di altri temi. Noi abbiamo assistito appunto in questo fine settimana a un durissimo scontro proprio sui temi delle famiglie, dei diritti, di chi ha diritto oppure no, insomma di tutto quello che abbiamo visto in questo caso. Il Movimento 5 Stelle, quando si trattò di votare le unioni civili, non votò. Che cosa è cambiato da allora ad oggi, a questo attivismo di questi tre giorni che abbiamo visto oggi? Intanto è cambiato una cosa fondamentale, non siamo più all'opposizione, siamo al governo, dobbiamo assumerci anche delle responsabilità, secondo me, ulteriori come forza di governo. E soprattutto io credo che sia stata una reazione anche molto forte del Movimento a quello di cui si sta intestando la Lega, che sono le tesi di Verona. Cioè questo paese ha fatto battaglie enormi, che hanno visto protagoniste soprattutto le donne, le nostre madri, che hanno portato anche a delle conquiste sociali, culturali importantissime, che oggi è assurdo pensare di poter mettere in discussione. Una cosa è importante a dire, cioè non è che il Movimento 5 Stelle adesso improvvisamente pensa soltanto ai diritti appunto degli omosessuali. Di Maio ha chiarito in maniera molto chiara che, e lo dice anche oggi in un'intervista, il supporto, l'aiuto alla famiglia naturale, alla famiglia formata da una donna, ai bambini, resta una priorità fondamentale. Ma non possiamo, a fronte di questa priorità, pensare che vadano tolti dei diritti agli altri. Quello di cui si è parlato a Verona è esattamente questo, cioè togliere i diritti ad altre persone pensando di poter star meglio poi quel tipo di comunità che si è espressa. Allora io credo anche che sia stato un autogol, le dico molto sinceramente, della Lega mettere il cappello su queste tesi, perché sto percependo che anche molte donne che votano Lega non si ritrovano nel modo più assoluto sull'immagine, sull'idea di donna che sta venendo fuori, che è venuta fuori in questi giorni al congresso di Verona. Quindi la nostra relazione, cosa è cambiato? È cambiato proprio il fatto di dover fare argine rispetto a una deriva veramente anche un po' che mi spaventa, che si sposta molto a destra e che mi ricorda appunto proposte anche del passato che per fortuna nel nostro paese pensavamo di aver superato definitivamente. Hai un'idea di famiglia? Quando pensa la famiglia a chi pensa? Io sono stato per quasi cinque anni garante per l'infanzia e l'adolescenza quindi so benissimo quanto sia fondamentale nell'esclusivo interesse del bambino avere un padre o una madre e ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo sono protagonista di questi tempi come tutti gli altri mei coetanei e so benissimo che se ci sono, come le unioni civili prevedono, due persone dello stesso sesso se ci sono anche delle famiglie formate a volte per le separazioni da sole donne ce lo dice l'Istat, un terzo delle famiglie italiane sono soltanto con una madre e dei figli qua anche quelle sono famiglie e sono famiglie chiaramente tutte le persone che in qualche modo ancora nel nostro paese non trovano a volte anche nelle leggi la possibilità di vedere unita la loro unione quindi nessuno toglie nulla alla famiglia naturale ma non possiamo come politica girarci all'altra parte o vivere nell'ipocrisia o far finta di niente o farne addirittura una battaglia culturale di chi ha più diritti e chi ha meno diritti questo lo trovo veramente vergognoso nel 2019 e non lo possiamo consentire e credo che il movimento nella sua evoluzione culturale di questi anni si stia approcciando a questi temi adesso in maniera molto sana, corretta e giusta Senta, in questo fine settimana ad alta tensione a un certo punto Salvini ha detto Spadafora si occupi delle adozioni no però poi insomma la risposta vostra è stata che delle adozioni alla delega il ministro Fontana che oggi sempre in questa intervista a Cremonesi dice il presidente Conte mi ha affidato la delega poi però ha nominato lui tutti e tre gli esperti della CAI senza darci la possibilità di continuare ad avere un nostro riferimento nella commissione visto il numero enorme delle richieste e la delicatezza del tema questa non è certo la migliore condizione per lavorare al meglio si tratta della commissione per le adozioni internazionali lo voglio precisare ho quindi manifestato la volontà di rimettere la delega per iscritto cioè Fontana rimette la delega per... no no, le spiego molto nei dettagli anche rapidamente anche per capire alla fine di queste adozioni allora intanto quindi Fontana dice che non avendo potuto lui nominare delle persone visto che è una prerogativa tra l'altro del presidente del consiglio blocca la commissione cioè perché questo sembrerebbe cioè non avendo potuto mettere delle persone di fiducia non avendo potuto fare lui le nomine cosa che appunto la legge prete faccia il presidente del consiglio detto ciò Fontana aveva manifestato al presidente ma parliamo ormai di oltre un mese e mezzo fa dopodiché si sono sentiti e parlati col presidente e Fontana ha deciso di andare avanti sulla delega c'è un dato, molte famiglie, molte associazioni e agenzie dovevano percepire del denaro dalla commissione adozioni internazionali gennaio, febbraio, metà marzo è stato tutto bloccato a metà marzo il segretario generale di Palazzo Chigi, Roberto Chieppa ha diffidato il Dipartimento per la Famiglia che fa riferimento al ministro Fontana a attivarsi per impegnare le risorse che servivano stante tutte le richieste che arrivavano e quindi la situazione si è sbloccata in definitiva la delega è e rimane consapevolmente di Fontana i fondi per le adozioni sono nelle facoltà di Fontana e qualunque tipo di processo per sveltire il lavoro di questa commissione viene realizzato dietro l'input del ministro quindi anche qui un invito a stare un po' di più negli uffici, a leggersi le carte a lavorare, a stare a Roma perché credo che i processi amministrativi vadano seguiti anche dall'autorità politica del rispetto dei ruoli se invece si va in giro solo a fare slogan a non portare avanti l'attività poi ci ritroveremo a dover dire agli italiani che avevamo promesso tante cose ma non le abbiamo fatte senta a non portare avanti l'attività